ciao benvenuto a business perfetto la rubrica che ti spiegherà come realizzare la tua idea o come migliorare la tua realtà d'impresa come detto nel video precedente oggi vi parlo di cosa non fare cioè quali sono gli errori che molto spesso si fanno quando si sviluppa un'idea o quando si persegue in un atteggiamento sbagliato per poi portare la propria azienda in una crisi allora andiamo subito al solo perché non vogliamo perdere tempo la prima cosa da non fare è pensare sviluppare un'idea realizzando un business antico cosa voglio dire per business antico c'è un business che è già riprodotto riutilizzato rifatto io vedo tanta gente che mi capita purtroppo di vedere molto spesso delle persone che pensano di aprire un locale un bar dire vabbè tanto qui a bologna perché io sono di bologna anzi viva bologna basta che apri un bar ristorante la gente entra basta fare qualche promozione la gente viene basta usare un po di prodotti scadenti perché era un prezzo basso e loro verranno dentro nel tuo locale e mangeranno la qualsiasi è rato non esiste è un errore personalizzare un'attività è importante immagina di aprire un negozio un negozio di abiti e di mettere dentro di questo negozio come fanno tutti gli abiti uno dietro l'altro quante persone pensi che entreranno quel negozio e qui quindi sfrutteranno il tuo tempo e quante persone pensi che entreranno in quel negozio e compreranno subito se avessi un negozio la prima cosa che farei è mettere degli schermi all'interno presentare i miei prodotti messi sulle persone essere più ordinato mettere le cose in luce avere magari pochi prodotti ma quelli che mi piacciono a me proprio perché voglio creare uno stile cioè scegliere di vendere in quel negozio un determinato stile un determinato tipologia di vestiti perché se tu pensi di vendere un po tutto amico mio mi sa che è sbagliato o hai un negozio chilometrico che puoi all'interno mettere tantissime tantissime tipologie di mode diverse abiti diversi o devi scegliere un determinato stile e venderlo personalizzarlo significa diventare esperto il terzo errore che tutti fanno è aprire la porta e credere che tutti entrino non basta essere su una via trafficata per poter avere tante persone che entrano nel tuo negozio ma è importante fare in modo che loro scelgano di venire quindi come far far venire i tuoi clienti beh io una delle strategie che secondo me funziona di più ai giorni d'oggi è quella di comunicare magari utilizzando facebook come lo sto facendo io perché perché facebook ce l'abbiamo tutti lo abbiamo in mano lo abbiamo in qualsiasi momento pausa facebook fine lavoro facebook aspettiamo un amico facebook dove ti giri vedi gente su facebook il quarto errore che tutti commettono è avere un piano b cosa non avere un piano b sembra una cosa sana quello che ti sto dicendo lo so avere un piano b significa per me è quello che voglio trasmettere a te è che non devi pensare di aprire un'attività e vabbè se va male faccio un'altra cosa no devi sviluppare un'attività cercando di mettere all'interno tutte le tue energie tutti i tuoi pensieri tutto quello che qui tu credi perché se no non ha senso di avere un piano b per come trasmetti per quello che dici per come comunichi se fai una pubblicità in tv o in radio scoprire se funziona o non funziona cercare di recuperare i tuoi investimenti lì di avere un piano b ma non se nel caso in cui la tua attività non va bene la chiudi ciao ciao e ne apre un'altra è proprio perché molto spesso molte persone hanno questo ragionamento che aprono e chiudono le aziende perdono soldi fanno rischiano un casino la loro vita e le loro famiglie ci vediamo nel prossimo video dove invece ti spiegherò qual è il focus che devi avere verso i tuoi valori per realizzare un'azienda che ti renda veramente felice l'azienda che ti renda veramente sempre ti renda veramente